siamo con diego titolare del panini di mare un bistro a milano in via siamo i miei amici numero 9 via di amici numero 9 zona colonne che ci deve raccontare una storia questi giorni vedete sul nostro canale che c'è micchi del prete che ha presentato questo libro il mio amico per la pelle e micchi del prete lo ha scritto proprio qui certo si è venuto per un tre mesi di seguito nella pausa pranzo poi gli lasciavamo suo tavolino e con il collaboratore scriveva quindi io sentivo tutti gli anedoti tutta la storia che ha dato quindi in anteprima l'avevo diciamo già conosciuto il libro quindi vi aspettiamo qui da panini di mare dove diego vi aspetta vi farà vedere anche in questa splendida location la vostra specialità pesce 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 quindi se siete amanti del pesce a milano vi aspettiamo qui da panini di mare un saluto da cappa e da diego grazie grazie